AMG GT è la vettura più rappresentativa del marchio AMG. Viene progettata interamente da Falterbach, che è la città di riferimento per il marchio. Si caratterizza per un frontale allungato, una griglia specifica, lamelle verticali e un kit aerodinamico specifico. Il motore viene realizzato interamente da un unico ingegnere che appone la firma sul basamento. Nel video presentiamo la versione Night Edition, che presenta una versione del motore V8 biturbo a 530 CV. Tra i contenuti salienti di questa versione troviamo i cerchi in nero opaco con pinze dei freni firmati AMG. Nel posteriore abbiamo l'asse posteriore sterzante, che sotto i 100 km orari migliora la manovrabilità della vettura. Sopra i 100 km orari le ruote posteriori sterzano nella stessa direzione di quella anteriore per migliorare la stabilità ad alte velocità. La vernice è un grigio grafite magno designio opaco. Oltre alla sportività di quest'auto possiamo apprezzare anche la guida all'aria aperta. La capote si apre elettricamente e permette di accedere all'abitacolo che presenta sedili performance rivestiti in morbida pelle e nappa. I sedili sono climatizzati e riscaldati e per la guida all'aria aperta anche nelle stagioni fredde abbiamo l'air scarf, cioè una bocchetta dietro la nuca che riscalda. La console centrale e anche le portiere sono rivestite in pelle naturale. Il volante è completamente rivestito in microfibra dinamica, appiattito anche nella parte laterale. Presenta delle palette al volante e dei tasti che permettono di modificare i programmi di guida, le sospensioni e altri parametri per rendere la guida più tecnica possibile. Un elemento decorativo molto importante alla console centrale che riprende il design della V del motore e permette di regolare le sospensioni ma anche il sound della vettura. Scopritela in concessionaria.